Ciao a tutti e benvenute in Pupa Nail Academy! Oggi vi presento la Golden Dust Nail Art ideata per Capodanno. Come prima cosa applico la base attiva crescita. Stendo lo smalto Lasting Color Gel nero su tutte le unghie, ad eccezione dell'anulare. Applico quindi la seconda passata. Stendo lo smalto Pau de Risatene sull'anulare. Ripeto l'operazione e attendo che sia perfettamente asciutto. Posiziono le stripes partendo dalla base dell'unghia, parallele tra loro. Coloro l'interno delle strisce con lo smalto nero alternando gli spazi. Rimuovo immediatamente lo striping prima che lo smalto nero si asciughi. Disegno una striscia dorata sia sulla riga nera che su quella cipria, aiutandomi nuovamente con le stripes. Anche questa volta, ad ogni striscia colorata, rimuovo le stripes. Attendo che tutto sia ben asciutto. Per completare la nail art, stendo il top coat effetto gel su tutte le unghie. Ed ecco realizzata la Golden Dust Nail Art. Questi sono i prodotti utilizzati per la realizzazione della Golden Dust Nail Art. Questi sono i prodotti utilizzati per la realizzazione della Golden Dust Nail Art.